Musica Napoli affoga nel traffico, un viaggio nel disagio da Chiaia a Mater Dei ma anche a Fuorigrotta, le dirette del VG21. Coronavirus in Campania, 393 i positivi del giorno, cala l'indice di contagio, l'appello di Mattarella a fidarsi a scienza e ricerca. E poi anche il monito dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia che si rivolge ai sacerdoti Novax e dite dovete vaccinarvi e fare i tamponi. Calcio giovedì c'è Napoli-Bologna, non decolla la vendita di biglietti al Maradona e allo stadio Spalletti sarà in panchina. Ben ritrovati in diretta.